Contrastare le dipendenze, il disagio e la povertà educativa, con un approccio in grado di integrare i servizi sociosanitari del territorio in un momento in cui il consumo di stupefacenti interessa un numero crescente di minorenni. E' il senso del progetto presentato dalla Commissione regionale Antimafia, che si è riunita nel plesso Padre Pino Puglisi, nel quartiere Sperone di Palermo, a pochi giorni dal blitz dei Carabinieri con l'obiettivo di coinvolgere le realtà del territorio nella protezione dei minori. Il progetto prevede lo stanziamento di un bando da 5 milioni di euro avviato dall'assessorato alla famiglia, da ripartire agli enti del terzo settore per iniziative a favore dell'inclusione sociale nelle aree di maggior rischio in ciascuno dei quattro distretti di competenza delle corti d'appello e dei tribunali per i minorenni. Un approccio multidisciplinare che proverà a colmare il ritardo culturale e la mancanza di coordinamento tra enti, terzo settore e scuola e che spesso viene lamentato dalle famiglie per aiutare quanti sono nel tunnel delle dipendenze. Una filiera del consumo di stupefacenti così lunga da creare problemi di dispersione scolastica, sicurezza e povertà. Chiaro che c'è attorno alla droga e al crack un sistema economico che si va consolidando nei nostri quartieri, veri e propri come dire c'è una filiera così lunga di difficile diciamo anche individuazione immediata del rapporto tra lo spacciatore e l'organizzazione mafiosa che controlla il traffico, la gente pagata per spacciare, cioè sono al libro paga quasi come se fossero degli impiegati e tutto questo ci fa capire che dobbiamo alzare anche la qualità della risposta. Tra i presenti all'incontro c'era anche Francesco Zavatteri, padre di Giulio, il giovane palermitano ucciso dal crack a cui oggi è intitolato un centro per il contrasto alle dipendenze. Il caso della storia di Giulio, un ragazzino immesso in una comunità, accanto a una comunità di tossicodipendenti, ha finito per essere diciamo esso stesso, diciamo la comunità di tossicodipendenti, è stato un luogo di distribuzione delle droghe. Cioè dobbiamo fare molta attenzione, dobbiamo avere molto più rigore scientifico nella gestione di questo problema. Grazie a tutti.